Nel preciso istante in cui l'India ha ottenuto l'indipendenza, allo scoccare della mezzanotte, io sono venuto al mondo. Mary sapeva di condannare il bambino nato ricco a una vita da povero. Lascia che il ricco sia povero e il povero ricco. Io, Salim Sinai, ero stato misteriosamente legato alla storia e il mio sarebbe stato per sempre il destino del mio paese. Ho grandi cose in serbo per te, figlio mio. Salim? Salim? Siamo nati tutti quella notte, in quella prima ora. Salim! Tutti? Sì, tutti! Come mai io vi sento tutti? Salim ha un grande dono. È l'unico che ci fa stare tutti insieme. Sotto il mio comando assumeremo il controllo dello Stato. Possiamo mostrare alla gente un diverso modo di vivere. Ti voglio con me. Ti amo. Un bambino e un paese nati a mezzanotte tanto tempo fa. Le nostre vite sono state, nonostante tutto, atti d'amore.